del pubblico, prendo un po' a destra, prendo a sinistra, mio Dio come ho visto di merda, applauso per attravergli l'occhio. Amici, amici, buonanotte, ben tornati all'appuntamento con l'Occulto, anche stasera Maria è con voi per consultare l'occhio, i quali ci sono risposte a qualsivoglia si problematica, ci sta l'occhio, ci sta la sfiga, ribaudisco un concetto basilario, se in caso venute nell'interiore di voi stessi i medesimi mi potete contattarmi stesso adesso al 7999, di cui, provate, occupato rifatici, perché a volte, di cui le linee a volte sono ingorgate, possono essere ingorgate, ma non voglio procrastinare inoltre il tempo, perché dalla regia, dalla regia mi edulcolano che hanno acchiappato la linea, c'è un'amica che ha acchiappato la linea, ciao Frecicò, e malati pure, esterna di cara, cosa ti ruote, dimmi? Io sono Jessica e sono rimasto la settimana scorsa, avevo pure chiamato, però voglio sapere un po' della mia situazione, che sai, insomma è difficile, si risolve? Ascolta Jessica, se mi chiami a quest'ora, mi sta a significarmi che stai a frusicare un casicolo, sono mia, Frecicò, sei un attimino intorcinata nell'interiore, di cui Jessica mia, nessuno ti si fila, si? Ascolta, te come situazione di fisico, te stai a spanna una cifra, te stai a sforare, confermami se sbaglio, eh Jessica, sì, sono un po' ingrassata, e vedi che le carte non dicono fregnace, non dicono fregnace, è uscita la bilancia, ascolta, sei una buzicola, Jessica mia, hai capito? te stai a mangiare, Frecicò, perché quando sono nervosa mi viene fame, te stai a scontare, altro che, amica mia, ascolta Jessica, te sei andata a intrippare adesso, di un uomo sposato, questo mo' te s'ha dato una ripassata, ma mo' non te senti, non te sei, hai capito? questo non te senti, ma più, ho introdotto questo, non la lascia sta burghergona della moglie, perché hai acchiappato un fregnone, hai capito? Jessica mia, tesoro, si vede dalle carte questo? Ah, mi sono formata, Jessica mia, al quartiere tuo, si potrebbero, te si caricherebbe un macello di Jeff e Jessica mia, circostanziatamente, diciamo, al casino del diavai, dei uomini che vanno e vengono da casa tua, famose a capisce, sozzurra, hai capito? Ho capito, ho capito, ma che c'ha a casa mia, però? E che c'ha, Jessica mia, c'ha che un bordello, tesoro mio, hai capito? Te, te, da circoncite, sto troiaio, di cui la polizia ti sta allumare, hai capito? Ma non è che sono le carte che allora fessero? Eh no, eh no, ma non puoi amputare alle carte, Jessica, una gagnara che hai montato su te, hai capito? Non fa l'angioletto, fammi capirsi, sozzurra, ascolta, vieni, casomai, fai uno soppo da me a studio, di modo che potiamo, diciamo, evacuare questa situazione in una maniera esaudiativa, eh? Hai capito, fracito? Grazie.